Grazie a me, quest'uomo infame e maledetto faceva arrivare l'eroina a New York, nascosta nei corredi che spedivamo dal convento. Signore, mio Dio, perdonami. Ma che dici? È pazza, io nemmeno la conosco. Tu da Dio mi allontanasti, ma ora, col mio pentimento, a lui torno a unirmi. Aspetta, Lucia. Lucia, aspetta. Metti via quella pistola, per favore. Ora devi pagare. Per favore, Lucia. Lucia, no, ti prego. Grazie. Grazie a tutti